Musica 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 E allora aiutatemi al ritmo di musica con le mani, un solo battito ragazzi, tutti insieme, forse su con le mani, anche a voi lassù, con le mani, con le mani. E come è luce, come è me, faccio tra i muri, anche a voi lassù, con le mani. Come è luce, come è me, faccio tra i muri, anche a voi lassù, con le mani. Grazie a tutti Grazie a tutti